Ciao a tutte ragazze, nuovo video, mi vedete solo con le sopracciglia fatte perché oggi voglio provare un prodotto per il viso con voi oggi andremo a parlare di questo correttore di Makeup Revolution che è il Concealer & Define ed è questo qua di questa linea c'è anche il fondotinta che io ancora non ho provato però ho voluto provare il correttore è circa 2-3 settimane che lo provo io il correttore lo utilizzo molto anche perché a volte lo utilizzo utilizzo solo il correttore invece del fondotinta perché avendo la mascherina mi dà fastidio avere tanti prodotti sul viso quindi questo qua lo sto terminando già e ho avuto modo di provarlo ora voglio parlarvene e voglio mostrarvi la stesura e il tutto allora, la colorazione che ho preso io è la C6 è difficile un po' scegliere le colorazioni per il semplice motivo che io l'ho preso da OBS non ci sono tester, non si possono provare le colorazioni quindi è un po' un casino e quindi ho preso questo qua che, devo dirvi la verità, è un po' chiara quindi penso che se lo acquisterò di nuovo prenderò una tonalità un po' più scura questo correttore è abbastanza coprente almeno per quello che necessito io mi copre abbastanza ovviamente non ho quelle occhiaie marcate ultimamente ce le ho perché comunque sto facendo un po' sono un po' stressata eccetera quindi è normale che cioè si vedono senza trucco poi quando vado ad applicare il correttore si attenuano e devo dirvi la verità questo me le attenua molto me le attenua molto ora ve lo mostro e poi vi dico cosa ne penso allora lo scovolino è questa qua con questa spugnetta qui e devo dire la verità mi piace un sacco questo scovolino perché è molto 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 comodo allora vi mostro qui il prima e il dopo allora io lo applico su questo lato qua perché allora se magari la prossima volta lo vorrei acquistare vorrei prendere la colorazione più aranciata allora questo è il correttore vi faccio vedere questa applicazione qui dove la stendo con questo pennello perché mi trovo molto molto bene a stendere il correttore con questo pennello e vado a stenderlo con questo pennello allora mi ultimamente come vi ho già detto mi trovo molto bene con questo pennello per stendere il correttore allora il correttore l'ho steso ho steso il correttore con questo pennello e vedete mi piace un sacco l'effetto che dà questo pennello però un'altra cosa che voglio che non è a favore di questo correttore lo trovo un pochino pochino secco quindi per chi ha un contorno occhi secco per me non va bene perché già io ho un po' di pelle secca questo correttore quando perché ci sono delle mattine in cui mi sveglio è veramente una pelle che non serve a nulla tipo oggi perché veramente sto troppo stressata sto pensando troppo e quindi ne risende la mia pelle infatti come vedete ho un sacco di imperfezioni quindi questa mattina mi sono svegliata con una pelle secca 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 e quindi vedete l'effetto per la prima ora è ok non ci sono le pellicine non si screbola però dopo due o tre ore se la pelle è molto molto secca inizia a vedere che si formano le rughette e si screbola e questo effetto non mi piace ovviamente la mia pelle nel periodo invernale è così nel periodo estivo la mia pelle migliora quindi questo qua lo vorrei provare questo tipo di correttore lo vorrei provare anche verso l'estate in modo da avere una recensione completa di questo prodotto perché al momento è un ni perché mi piace la coprenza perché mi piace anche come illumina questa zona perché io applico prima il fondotinta poi vado ad applicare il correttore e vedo che mi illumina tutta questa zona e mi piace ora ve lo faccio vedere anche con la spugnetta solo che poi ci sono questi accorgimenti che poi non mi convincono più di tanto ovviamente io l'ho portato al termine perché io voglio testare e voglio portare al termine tutti i prodotti e poi ve ne volevo già parlare solo che tra un casino e l'altro a casa mia poi non non ve ne ho parlato più allora vado a stenderlo con la spugnetta allora a me la spugnetta non piace né per stendere il fondotinta né per stendere il correttore perché come vedete qui con il pennello ha un po' più di coprenza mentre con la spugnetta fa scemare quindi io devo fare doppia passata e andare di nuovo per avere un risultato migliore quindi per questo non mi vedete utilizzare la spugnetta né per il correttore né poi il fondotinta perché in questo ultimo anno mi sto trovando bene ad applicare sia il fondotinta che il correttore con il pennello allora questa è la parte con la spugnetta visto che qui ho fatto due passate vado a fare anche la seconda passata con il pennello poi un'altra pecca però di questo scovolino è che il prodotto resta nella conca e quindi voi dovete stare lì a toglierlo allora ecco qua questa è la seconda passata scusate sentite la lavatrice la porta che suona la porta che si chiude però casa mia è così quindi abituati allora questa è la seconda passata con il pennello e questa è la seconda passata con la spugnetta fatemi sapere anche voi cosa ne pensate se vi piace più la stesura con la spugnetta o con il pennello fatemi sapere anche voi come vi siete trovate e se avete avuto lo stesso pensiero che ho avuto io questo è per quando riguarda le occhiaie quindi lo trovo un po' troppo secco per il mio tipo di pelle ovviamente su una pelle grassa oppure una pelle mista la cosa già va a migliorare ovviamente io prima di applicare questo correttore vado a dittratare molto la pelle quindi faccio la mia skin care la mattina appena mi sveglio poi ovviamente il tempo che sistemo la stanza e tutto e poi mi inizio a truccare prima di truccare io applico di nuovo una crema idratante proprio per evitare l'effetto secco che dà la mia pelle dopo un paio di ore che mi sono truccata perché ultimamente mi capita che metto tutto fondotinta al correttore dopo due orette la prima ora è perfetta e tutto dopo due orette si iniziano a vedere le pellicine eccetera e quindi sto utilizzando questo metodo quindi fare la skin care la mattina e poi quando mi vado a truccare mi applico di nuovo la crema idratante come crema idratante pre-trucco sto usando questa qua di bottiga verde che è all'oliva e devo dirvi la verità è molto idratante però devo capire un attimo se è questa crema che mi fa uscire lo sfogo o è qualche altro prodotto che sto utilizzando perché ultimamente ho diversi sfoghi qua sulla fronte e sul mento vabbè sul mento è possibile che sia la mascherina però sulla fronte devo vedere un po' se qualche prodotto che sto utilizzando non va bene allora questo è per quanto riguarda le occhiaie ora andremo a provare andremo a provare il correttore per quanto riguarda le varie imperfezioni del viso allora io quando non applico il fondotinta e applico il correttore faccio in questo modo visto che in questa zona qui dove lo sto applicando è la zona maggiormente interessata dalle imperfezioni faccio in questo modo poi anche vedete ai lati ai lati e a questo lato qua che faccio prendo il pennello e mi inizio a sfumare il tutto ecco qua poi e mi sfumo il tutto e già la situazione migliora è molto coprente anche per quando riguarda le imperfezioni anzi lo preferisco per coprire le imperfezioni questa texture che ha la preferisco per coprire le imperfezioni perché per un correttore liquido diciamo è abbastanza difficile coprire le varie imperfezioni perché comunque sono molto leggeri infatti io vado ad utilizzare spesso il correttore compatto in crema però con questo non c'è bisogno perché veramente mi piace come copre le varie imperfezioni i vari rossoni ora andiamo a vederlo anche sul mento vedete non ne applico tantissimo anche perché la mascherina è fastidiosa poi perché comunque la porto per lavoro la porto per varie ore e anche sul mento devo dirvi la verità l'effetto mi piace quindi io la applico anche ai lati del naso perché mi si creano i rossuri anche ai lati del naso sempre per colpa della mascherina e poi vado a mettere il correttore centralmente e vado a coprire il rossore del naso cioè non a coprire ma ad alleggerire il rossore del naso io faccio questo quando non applico il fondotinta e poi vado a fissare con un pelino di cipria perché ripeto dato che il correttore per me è troppo secco vado a mettere pochissima cipria perché sennò peggioro la situazione anzi alcune volte vado a mettere anche un ombretto panna per fissare perché l'ombretto ha la texture meno pesante della cipria infatti vado con il pennellino e vado da questa palettina prendo questo panna vedete scuoto l'eccesso e vado proprio leggermente perché sto notando che l'ombretto ha la texture più leggera allora vedete qui qui già si iniziano a vedere le prime pellicine ecco questo è l'effetto che mi sta facendo in questo periodo questo correttore quindi per il momento lo trovo anche il cane quindi per il momento lo trovo adatto non per la mia pelle che ripeto è una pelle secca ma per una pelle leggermente grassa oppure appunto grassa perché è veramente buono come correttore perché dura solo che io ho questo problema delle pellicine perché veramente dura poi è ottimo anche per coprire le varie imperfezioni del viso e quindi è un ottimo correttore però per la mia pelle in questo momento è no questo è il mio parere su questo correttore fatemi sapere se volete un'altra recensione per quando riguarda un correttore specifico o un fondotinta specifico quindi fatemelo sapere nei commenti io vi saluto e al prossimo video ciao ciao